tre elementi allora per quel che riguarda il nostro mondo axi numero 7 di questa stagione per il primo abbiamo parlato di tutta Italia ebbene scendiamo e non poco ci spostiamo in provincia di Ragusa quindi siamo in Sicilia ad Acate 20 aprile prima Coppa Pasqua secondo trofeo bio apemaglia Acate appunto prova del trofeo primavera una gara ciclistica su un circuito di 6 km da ripetere 10 volte con due partenze distaccate da 3 minuti l'una e anche questa è una manifestazione che viene patrocinata proprio da Axi ciclismo poi è stata definita una nuova data per la Gran Fondo Cassino che fa parte del circuito pedalazio quindi la città di Cassino che non si è disputata la scorsa settimana a causa avverse previsioni meteo è stata spostata al 14 di luglio infine ci fa piacere ricordarvi perché è un servizio un'opportunità a volte poco considerata ma in realtà di notevole valore non solo tecnico anche economico per tutti i tesserati Axi e qui ci sono proprio le immagini che ci fanno vedere cicliliotto una bici cicliliotto bene per tutti i tesserati Axi su tutto ciò che è cicliliotto esiste il 20 per cento di sconto so che molti ne hanno già usufruito alcuni invece non lo sanno ancora e quindi diamo noi là per spiegare questa importante convenzione che Axi non ha solo con cicliliotto ma che ha anche con cicliliotto e quindi oggi volentieri ve la riproponiamo